La stessa cosa, si può cambiare proponendo un'idea di cambiamento vera e radicale. Luigi in campagna elettorale diceva, scusate io non lo so dire bene, ammascassà, non so quanto l'ho detto bene, ma insomma il messaggio era chiaro. Io credo che questo è il problema che abbiamo, ammascassà, ma ammascassà con un progetto chiaro di cambiamento e il progetto è la partecipazione della gente e rompere la separazione. E allora io penso che questo è il grosso messaggio che è venuto da Napoli, ma guardate il grosso messaggio che è venuto dai referendum sull'acqua, perché nessuno di noi si aspettava di vincere quel referendum in quel modo. Eppure quella vittoria è stata una vittoria contro un'idea che è passata in Italia da tutte le parti, nel centro-destra come nel centro-sinistra, che le cose potevano funzionare solo se si privatizzava tutto. Eppure la maggioranza degli italiani, forse perché ha visto gli effetti delle privatizzazioni, ha votato in maggioranza per l'acqua pubblica. E qua bisogna denunciare una cosa, e io parlerò un po' di Berlusconi, ed è la prima cosa che voglio dire. Il governo Berlusconi nella manovra non ha solo messo che non ci sono più i contratti nazionali di lavoro. Nella manovra il governo Berlusconi ha riproposto per intero quei pezzi della legge Ronchi che il referendum aveva abrogato, e col cavolo che questo governo ha intenzione di dar corso a quella che è stata la decisione del popolo. Questi signori della destra si riempono la bocca della parola popolo tutti i giorni, dicono che governano in nome del popolo, l'hanno messo nel titolo del loro partito, si chiamano popolo delle libertà, e poi capita che il popolo voti diversamente da come loro volevano, e loro se ne fregano di che cosa ha deciso il popolo. Siamo qui alla distruzione della democrazia, in cui questi, nonostante la gente abbia deciso, perché non era un sondaggio, era un referendum dove la gente ha deciso, e ha deciso che l'acqua debba essere pubblica, eppure questi vanno avanti come nulla fosse. E allora io penso che questo è il problema che ci abbiamo davanti, lo diceva già Gianni Rinaldini. Ci troviamo davanti a un governo che è un governo antidemocratico, che mette in discussione le conquiste che abbiamo fatto in questi 60 anni di democrazia, non solo negli ultimi 20 o 30, perché qui stanno mettendo in discussione le conquiste costituzionali, per cui c'è gente che è morta in montagna nel 43, nel 44, nel 45, per conquistare una costituzione repubblicana, in cui non ci fossero più i servi che devono inclinare la testa e quelli che comandano, che tutti fossero un popolo di italiani che possono decidere. Questi vogliono demolire questa idea di democrazia. E dall'altra però stanno facendo delle stangate pazzesche, perché abbiamo già avuto due stangate. Io vedo che una stangata è iniqua quando mettono i ticket sugli ammalati, bloccano gli stipendi dei pubblici dipendenti, mandano le donne in pensione più tardi, tagliano i trasferimenti agli enti locali, per cui verranno tagliati i servizi sociali, i trasporti e tutto il resto, tagliano i trasferimenti per la sanità, tagliano e demoliscono i contratti nazionali di lavoro, che sono stati il modo principale con cui i lavoratori tutti, gli operai come gli impiegati, in questi anni si sono difesi. Com'è stato? E' stato con i contratti nazionali di lavoro, conquistate con dure lotte dal movimento operario italiano. Questi da un lato demoliscono tutto questo, e poi se gli si chiede di fare una tassa sui grandi patrimoni, sulle grandi ricchezze, su quelli che non sanno che cosa farsene, dei loro soldi, questo non si può fare. Perché dicono che se si fa la patrimoniale i padroni si spaventano, o i mercati si spaventano e vanno a investire da un'altra parte. Per questo diciamo che la manovra è iniqua, perché fa pagare sempre agli stessi, che visto che sono già abituati a pagare si può continuare a farlo, e a quelli che hanno 5 o 6 Ferrari, che hanno il panfilo da 50 metri, che hanno le case in tutto il mondo e le ville come villa certosa del presidente Berlusconi, questi non pagano un euro. E' un governo antipopolare, perché difende i privilegi dei ricchi e degli speculatori, contro la massa popolare, contro la gente che lavora, contro i commercianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori, gli operai, i disoccupati, quei giovani precari che non avranno mai un posto di lavoro. Ci parlano della difesa della famiglia, ma che famiglia si può fare un giovane di 20 anni che dovrà stare precario tutta la vita e non gli darà mai una pensione. Ma che famiglia si fa? Siamo un governo che parla in un modo e razzola in un altro. Per questo va mandato a casa. E poi siamo un governo che fa una manovra recessiva, perché stanno giustificando le manovre dicendo che c'è la crisi. Ma se la manovra taglia gli stipendi, se la manovra taglia i trasferimenti agli enti locali, ma la gente domani cambierà la macchina perché c'ha già dieci anni o la terrà ancora due o tre anni perché non c'ha i soldi per cambiarla? Io penso che non la cambierà la macchina la gente dopo sta manovra. E allora il punto che bisogna chiedersi è ma i padroni, a chi le vendono le merci che producono se la gente non c'ha più i soldi per comprarle? Ma come si fa a rilanciare l'economia se tu continui a tagliare gli stipendi e continui a tagliare lo Stato sociale? E qui c'è un punto decisivo. La crisi, che cos'è? Perché noi sentiamo parlare tutti i giorni della crisi. Ma come mai c'è la crisi? La crisi c'è perché in questi 25 anni in tutti i paesi occidentali hanno continuato a tagliare i salari e le pensioni e oramai la gente non arriva alla fine del mese e se non arriva alla fine del mese non c'ha i soldi per comprare le cose che produce. Questa è la ragione della crisi. E se Marchionne va a produrre le macchine in Serbia e paga gli operai 300 euro al mese quegli operai lì non ci avranno i soldi per comprarle quelle macchine. Ma se tu qua licenzi la gente e la metti in cassa integrazione nemmeno gli italiani avranno più i soldi per comprare quelle macchine e viene fuori una cosa chiara del capitalismo che è quello che è buono per il singolo padrone perché lui ci guadagna non è buono per la società perché se continuano a tagliare gli stipendi a delocalizzare all'estero e a fare tutte queste cose la gente non ha più i soldi per vivere è da qui che nasce la crisi. E allora il governo non solo fa una manovra iniqua ma fa una manovra che aggrava la crisi una manovra recessiva e poi c'è un terzo punto tutte le manovre sono giustificate dal battere la speculazione finanziaria no? perché questo è ci dicono che ci sono i mercati che si innervosiscono o si spaventano non bisogna spaventarli questi mercati e se si spaventano i mercati speculano sull'euro e ti tirano giù i titoli di Stato italiano ma voi vi siete mai chiesti che cos'è questa speculazione? perché bisogna chiederselo se uno guarda i telegiornali non lo capisce la speculazione è una cosa abbastanza semplice ci sono venti banche finanziarie nel mondo che posseggono metà dei titoli del complesso della massa finanziaria questi sono gli speculatori non sono mica dei delinquenti che vanno in giro col mitra e gente che va in giro ben vestita meglio di me con la giacca e la cravata col macchinone e l'autista e che investe o disinveste e lo fa a seconda di quello che gli conviene allora che sport stanno facendo questi speculatori stanno facendo questo sport che c'è qualche agenzia di rating le chiamano così l'avrete sentito al telegiornale sono tre in tutto il mondo sono degli Stati Uniti e sono di proprietà dei venti speculatori queste agenzie che sono private dicono che lo Stato greco non è più solvibile cioè non bisogna fidarsi troppo e dopo che le agenzie di rating hanno detto che lo Stato greco non ci si può più fidare questi speculatori dicono che vendono dei titoli di Stato greco i titoli di Stato greco il giorno dopo scendono di valore e lo Stato greco deve pagare degli interessi più alti per poterli vendere al fine di avere i soldi per pagare gli stipendi dei pubblici dipendenti di pagare gli insegnanti di asfaltare le strade di far funzionare la sanità le cose la Grecia è arrivata a pagare il 15% di interessi per riuscire a piazzare i suoi titoli di Stato e questi speculatori che cosa fanno il minuto dopo che quei titoli sono crollati e quindi costano di meno e rendono di più perché rendono il 15% se li comperano ma dopo quando valgono di meno qual è il meccanismo che l'Europa presta i soldi alla Grecia al 5% che la Grecia dà i soldi agli speculatori al 15% e che la differenza del conto lo pagano i lavoratori e i pensionati greci a cui stanno togliendo tutto in questi mesi perché se guardate i servizi in televisione o sui giornali viene fuori che la Grecia ha fatto un passo indietro di 50 anni ci sono i ragazzini che stanno andando a scuola senza i libri di testo vogliono licenziare 30.000 insegnanti in Grecia vogliono privatizzare l'energia elettrica la Grecia in questi mesi ha venduto 20.000 ettari di terreno alla Germania perché la Germania ci schiaffi sopra i pannelli solari al posto degli oliveti delle vigne per fare le energie alternative per la Germania e i banchieri tedeschi consigliano alla Grecia di vendere le isole o di vendere il partenone così fanno cassa allora il meccanismo è questo che la speculazione serve a mettere in ginocchio i paesi più deboli a far pagare i lavoratori a togliere i diritti e serve a ingrassare quegli stessi speculatori e a permettere ai paesi più forti come la Germania di farsi i suoi porci comodi perché questo sta avvenendo in Europa e la stessa cura che hanno fatto sulla Grecia la stanno facendo sull'Italia perché questo sta avvenendo e più fanno manovre come quelle che hanno fatto nell'estate il governo Berlusconi più l'economia va giù meno entrate ci sono nello Stato e meno entrate ci sono e più il debito si gonfia più il debito si gonfia più devi tagliare la spesa pubblica più la tagli più la crisi va giù la Grecia con un anno di manovre ha una diminuzione del prodotto interno lordo di 7 punti e paga tassi di interesse sul debito del 15% ora io vi chiedo ma qual è la famiglia che gli si riducono le entrate del 7% e deve pagare sui debiti il 15% di interesse non c'è nessuno che ce la fa e infatti la Grecia la sta strozzando poco per volta e poi diranno che è fallita dopo che hanno demolito tutti i diritti dei lavoratori questo sta facendo il governo Berlusconi per questo se ne deve andare a casa il governo Berlusconi se ne deve andare a casa perché è contro la gente perché aggrava la crisi e perché non fa niente contro la speculazione voi mi direte ma che cosa si può fare contro questi speculatori perché se quelli sono più forti e noi più deboli che cosa facciamo badate c'è una cosa semplicissima che si potrebbe fare basterebbe decidere che l'Europa come tutti gli altri paesi del mondo sottolineo tutti gli altri paesi del mondo dall'Inghilterra agli Stati Uniti al Giappone alla Cina all'India al Brasile tutti che i titoli del debito pubblico se li deve comperare direttamente la Banca Centrale Europea e non metterli sul mercato perché la cosa che succede è questa qui Obama quando ha bisogno di soldi emette dei titoli di Stato e la Federal Reserve degli Stati Uniti li compra all'1% di interesse poi dopo e gli dà i soldi in cambio poi dopo la Federal Reserve vedrà se mettere sul mercato quei titoli e venderli ma lo fa dopo non prima l'Europa è l'unico continente nell'universo non è mai esistita prima e non esiste in nessun altro paese al mondo che la Banca Centrale Europea presta i soldi alle banche all'1% di interesse e invece gli stati quando hanno bisogno di soldi devono andare sul mercato cioè dalle banche e dagli speculatori a prendere i soldi e devono